Un fenomeno mondiale che sta prendendo piede specialmente fra le giovani generazioni. Il revenge porn, letteralmente la vendetta porn, è quel gesto con cui si pubblicano online le foto intime dell'ex partner, punendoli per aver deciso di interrompere la relazione. Un caso che potrebbe rientrare in questo circolo perverso arriva da Agrigento, dove un ragazzo costringeva la ex fidanzata minorenne a continuare ad avere rapporti sessuali con lui, nonostante lei non volesse più saperne, con la minaccia di pubblicare sui social foto e dettagli imbarazzanti. Il giovane, di fronte all'allontanamento da parte della ragazza, aveva iniziato a minacciarla ripetutamente, anche con telefonata nel cuore della notte, di rivelare ai suoi familiari e poi alla rete, anche mediante l'uso dei social network, dettagli e immagini intime della loro storia di coppia, qualora la ragazza non avesse continuato ad avere rapporti sessuali con lui. A scoprire tutti i carabinieri che, sentiti amici e parenti e svolti accertamenti tecnici sui telefonini, hanno ricostruito l'intero quadro della vicenda. La ragazza è stata poi sentita dal pubblico ministero insieme a una psicologa e ha confermato che il suo ex fidanzato l'aveva più volte minacciata per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui, utilizzando come strumento di ricatto anche delle foto intime che la ragazza gli aveva inviato in passato. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale aggravata e condotto nel carcere Petrusa di Agrigento.